Shun Jungen Schaun ni Funfius Gamer Oggi ragazzi siamo qui con l'asta di beneficenza di un giocatore in particolare della Germania di origine tedesca, ovvero Mats Hummels difensore centrale del Bayern Monaco e era presente nella partita Bayern Monaco-Napoli con la vittoria del Napoli per ben 2-0 il giocatore comunque è stato in panchina e non ha giocato in pratica nel campo ma comunque la maglia l'ha indossata lui in panchina esatto, siamo corretti fino alla fine quindi ragazzi come promesso avevamo detto che saremmo andati oltre i confini anche nazionali ci siamo andati e iniziamo così eccola qui la maglia vabbè poi ci saranno tutte le riprese comunque eccola qui ve la faccio vedere mentre parliamo testimonianza principale Audi Cup è la cosa più importante quindi non penso che si dovranno scorreranno le immagini durante queste comunque siamo sempre in collaborazione con Just Children 17 su 24 comunque se siete della Germania dite ad amici tedeschi esatto così per diffondere il messaggio comunque di beneficenza perché comunque i proventi andranno probabilmente andranno sempre agli ospedali di Napoli le parti che si occupano di bambini quindi anche voi magari tifosi del Napoli non solo italiani immigrati in Germania che capite questo video a parte il saluto tedesco che ha fatto Andrea e quindi mi raccomando fate girare questa voce questa quarta asta sta andando benissimo queste aste ringraziamo a tutti quanti e quindi ragazzi adesso andiamo dentro con i passaggi vi facciamo vedere come partecipare a quest'asta allora prima di tutto andate sul sito www.justchildren.it trovate il primo link in descrizione quindi ragazzi andate sul sito andate nella sezione ass di beneficenza come sempre e vi troverete negli eventi in corso l'asta di Mats Umets l'asta partirea in questo momento è la base di 100 euro esatto quindi l'asta scadrà il 20 ottobre alle ore 15 quindi giusto tra una settimana ragazzi mi raccomando fate offerte sostanziose come sempre aiutiamo questi bambini ora vi mostreremo come poter fare un'offerta per questa maglia allora andiamo nella sezione fai un'offerta prima di fare un'offerta ovviamente dobbiamo creare un account registrazione con l'username nome cognome email numero di telefono mi raccomando ragazzi numero di telefono vi ritiro come gli altri dati come sempre ricordiamo in ogni video perché questa è una causa importante non è questo non è questo il caso di scherzare ragazzi di dare contatti falsi perché comunque sarete verificati e tutte le offerte sono verificate quindi non ricavate niente da un'offerta fasulla password confermare password registrazione una volta fatta la registrazione potete andare all'interno della vostra email cliccare il link per confermare la registrazione controllate anche in spam magari perché a volte in automatico mandano i link esterni in spam o poste indesiderate verrete renderizzate direttamente cliccando il link nelle mail all'interno dell'asta di Hummels per fare un'offerta ragazzi le offerte andranno 10 euro in 10 euro ad esempio possiamo offrire anche ad esempio l'offerta ora è 100 euro possiamo fare ad esempio 100 12 euro quindi praticamente da 10 euro in poi pagano le offerte facciamo un'offerta di 112 euro e l'offerta sarà da 112 quindi finché qualcuno non supererà ad esempio facendo 122 euro l'offerta sarà quella di 112 esatto ricordiamo come sempre che al termine dell'asta ci sarà una giuria che valuterà le prime tre offerte per questa bellissima maglia nella scadenza di 5 giorni tra un'offerta e l'altra ci sarà appunto la verifica e nel caso in cui le tre prime posizioni non risponderanno non confermeranno la loro offerta economica la giuria potrà decidere anche di riprendere l'asta ripetere l'asta quindi questo lo ricordiamo sempre ricordiamo che l'associazione Just Sheet rilascerà inoltre un certificato di autenticità della maglia che quindi attesterà per bene il fatto che sia vera sia autentica indossata da Mazz il grande Mazz oh ragazzi uno dei centrali più forti del mondo Bayer Monaco noi stiamo parlando di una squadetta sempre Uberales quindi ragazzi il primo link in descrizione per partecipare all'asta mi raccomando partecipate in tanti perché comunque per una buona causa col cuore col cuore si va avanti per una bella maglia come sempre quindi ragazzi aspettatevi tante sorprese come detto l'altra volta perché ce ne saranno delle altre soprattutto anche del Napoli e di altre squadre italiane e nonno e nonno quindi ragazzi lasciate un bel mi piace un bel commento iscrivetevi al canale partecipate molti all'asta noi ci tocchiamo al massimo all'asta bella ragazzi anzi NETEJUNKS ciao raga ciao